Operazione antidroga dell'arma questa mattina al centro storico. Il comando provinciale dei carabinieri con l'ausilio del nucleo cinofili di Abbasanta ha eseguito sette ordinanze di custodia cautelare a carico di altrettanti italiani richieste dalla locale procura della repubblica. Quattro indicate in carcere, due domiciliari e uno con l'obbligo di firma. Questo l'esito dell'attività investigativa svoltasi tra marzo e settembre 2021. Un'indagine che ha documentato oltre 450 episodi di spaccio di cocaina ed eroina tra le vie del centro storico per un introito mensile di circa 15 mila euro a favore degli indagati, tutti senza lavoro e con due percettori del reddito di cittadinanza. Epicentro dello smercio degli stupefacenti, quartiere di San Donato dove venivano spacciati al dettaglio a una clientela definita dalle forze dell'ordine come variegata. Connesso all'operazione odierna denominata la casa di carta anche un episodio avvenuto agli punti nell'aprile di quest'anno con il ruogo di una macchina di proprietà secondo quanto riferito di un debitore degli indagati. Sull'accaduto ai presunti incendiari pesa anche l'accusa di tentata estorsione. L'attività investigativa condotta dal nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Sassari è una delle tante impiedi per ridare sicurezza al cuore della città. Il centro storico è sempre attenzionato dalle forze dell'ordine, stiamo attuando tutte le accortezze e avviando tutta una serie di attività di indagini soprattutto per combattere quella che è spazio di sostanze stupefacenti che poi porta indietro tanti altri tanti altri reati cosiddetti satellite.